Voglio dedicare questo mio traguardo a mamma e papà che hanno saputo ascoltare e sostenere i miei sogni. Lo dedico ai miei docenti che mi hanno insegnato a coltivare la curiosità allargando le mie conoscenze. Un traguardo che dedico anche a me per non essermi mai arresa anche quando sembrava tutto troppo difficile. E lo dedico anche alla mia terra che mi ha vista crescere e mi ha fatto capire come rispettarla. Un grazie di cuore ai responsabili dell'azienda che mi hanno ospitato durante la stesura della tesi e che mi hanno fatto toccare con mano le difficoltà e le soddisfazioni di chi lavora la terra perché produca i suoi frutti. Questo è l'ultimo passo dal mio percorso di studi. E davanti a me se ne apre un altro con tanti altri passi da compiere. Io sono pronta. Ci rimetterò tutta me stessa. Croce sul cuore. Grazie. Grazie.